Quando tu morirai, eviterai l'inferno, finire il purgatorio, per te sarà già eterno, ti riconosceranno l'infermità mentale, per questo eviterai quel girone infernale di chi ha martirizzato il proprio buon marito, facendone in vita al suo bersaglio preferito, usandolo ogni volta a proprio piacimento, sollecitando i suoi attributi, fino allo spopolamento. Le questioni ereditarie hanno primissima importanza se non vuoi portare con te una belva nella stanza, nella stanza tua nuziale, dove il ben finisce male se non hai fatto attenzione o sei stato un po' coglione, e se sei più fortunato e con la camicia nato troverai un'indifferenza da far perdere la pazienza anche un santo genuino dal candore di un bambino e anziché calore umano, avrai quel della tua mano. Quando rinascerò, dovrò star molto bene, vivere vorrò felice e anche contento, indagherò sul padre, ma soprattutto sulla madre della tenera panciulla che un dì dovrò sposare. indagherò sul loro mio dolce fior di serra, anche se da tanti anni sepolti sotto terra e se dovessero essere genitori come i tuoi, preferirò far coppia in un gioco di voi. Le questioni ereditarie hanno primissima importanza se non vuoi portar con te una belva nella stanza, nella stanza tua nuziale dove il ben finisce male se non hai fatto attenzione o sei stato un po' coglione e se sei più fortunato e con la camicia nato troverai un'indifferenza da far perdere la pazienza anche un santo genuino dal candore di un bambino e anziché calore umano avrai quella della tua mano.